E questo è un altro padiglione molto interessante con la riproduzione del fondo marino. È incredibile, non avevamo mai vista una cosa del genere. Con i pesci appesi, i vari tipi di alghe, posidonie, coralli. Guardate che roba! Stupendo! E c'è anche un po' l'evoluzione di quella che è la parte biologica del mondo marino. Ed ecco qui invece gli effetti dell'inquinamento. Vedete, rottami, bottiglie di plastica, secchi, barattoli di vernice, plastica, bicchieri, lattine, carta. Grazie! Grazie! Grazie!